Buongiorno ragazzi, riprendiamo il nostro percorso di storia. Dopo aver affrontato quella che è l'Europa degli Stati nel XIV e nel XV secolo, quindi con la Guerra dei Cent'anni, che vede contrapporsi Francia e Inghilterra fra il 1337 e il 1453 e la Guerra delle Due Rose combattute fra il 1455 e il 1485, adesso vediamo un poco che cosa succede invece in Italia. E a questo proposito, poi vediamo, magari possiamo fare anche un po' di laboratorio, ora vediamo, a questo proposito andate a pagina, o meglio, la lezione la trovate a pagina 344, la lezione, pagina 344-345, ma la cartina tematica relativa a questa lezione la trovate a pagina 336, va bene? Quindi, per quello che mi riguarda, mentre seguite la lezione che sto adesso facendovi, per me potete stare su pagina 336-336. E quantunque la lezione, la lezione, propriamente, sarebbe alle pagine 344-345, 344-345. Bene. Allora, andate quindi a pagina 336 e la prima cosa che dobbiamo, alla quale dobbiamo fare attenzione, è, appunto, osservare la composizione geopolitica della penisola italiana, appunto, nel XIV e XV secolo, ossia nel 1300 e nel 1400. Allora, la cartina tematica è questa, va bene, osserviamola per bene. Che cosa vediamo? Vediamo che c'è una incredibile frammentazione, però, questa frammentazione è nulla rispetto a quella che era la realtà dei comuni. Pertanto, secondo me, è una cosa opportuna che abbiate dinnanzi agli occhi anche un'altra cartina tematica, che è quella di pagina 181-181, va bene? Quindi, facendo in questo modo, tenendo da un lato pagina 181 e dall'altro lato pagina 336, facciamo in questo modo, prima guardiamo pagina 181 e diamo di nuovo un'occhiata a quella che è la composizione particolare dell'Italia centrosettenzionale nel 1100-1200, con tutti i comuni. Nella cartina tematica di pagina 181 troviamo segnalati e segnati i più importanti comuni, non sono nemmeno tutti questi che vengono qui segnati, va bene? I più importanti. Abbiamo visto che i comuni sono una cosa particolare, straordinaria, che nascono in un momento assolutamente eccezionale, che vede la nascita della classe borghese. Bene, però abbiamo anche visto che all'interno dei comuni la vita era assolutamente, come dire, agitata, movimentata a causa delle fazioni, ossia dei partiti, chiamiamoli partiti politici, però non vanno certamente intesi nel senso moderno, delle varie fazioni, cioè delle varie parti politiche che facevano riferimento a famiglie particolarmente potenti, soprattutto da un punto di vista pecuniario, cioè delle ricchezze che possedevano, e come dire, un antagonismo politico di fazioni politiche che portava a scaramucce, a liti, che spesso ci lasciavano il morto e davano, aprivano la stura, cioè aprivano la via a molteplici vendette familiari che comunque inquinavano la vita dei comuni. Bene, la vita all'interno dei comuni era quindi qualcosa di complesso, qualcosa di difficile. Inoltre abbiamo visto, abbiamo parlato quando abbiamo fatto i comuni, abbiamo visto che spesso i comuni che cercavano di allargare la propria sfera di influenza anche sul contato, cioè sulla campagna circostante, spesso appunto nell'allargarsi nella campagna, nel controllo della campagna circostante che facevano, si scontravano con altri comuni. Facciamo finta che questo è un comune, facciamo finta che questo è un altro comune, il comune si allarga nella campagna perché c'è bisogno che si produca vegetali e anche prodotti di altro tipo per l'alimentazione di chi vive qua, ma anche questo comune si allargerà e nell'allargarsi si scontrano e l'uno cerca di comandare sull'altro, si scontrano per il controllo del territorio e perché magari una delle due si sottometta all'altra. Ok? Bene. Allora, allora, in tutto questo bailamme, cioè in tutta questa estrema confusione, che cosa succede? Succede che la stessa popolazione che vive all'interno dei comuni, cioè delle città, desidera che vi sia più tranquillità, più sicurezza, che si possa camminare per le strade senza il rischio di o magari subire qualche aggressione da parte di qualche avversario politico, o magari se non si hanno avversari politici, di trovarsi impelagati in scontri tra bande armate, oppure situazioni di altro tipo. E d'altro canto si voleva anche una certa sicurezza nei confronti degli altri comuni. Io che sono del comune X non voglio vivere sempre nella paura che il comune Y o il comune Z mi attacchi e la mia incolumità è quella dei miei cari e quella delle mie proprietà sia messa frequentemente a rischio e in difficoltà. Bene, allora è proprio un'esigenza che parte dal popolo, quindi c'è un malcontento popolare per le lotte intestine, cioè interne ai comuni, ma anche per le lotte tra i comuni, sono proprio tutte queste dinamiche che portano sì che la popolazione, fanno sì che la popolazione desideri la tranquillità sopra ogni cosa e che per arrivare a questa tranquillità si mettono in discussione i diritti politici, cioè per esempio abbiamo visto che la caratteristica dei comuni qual era? Quella che c'erano appunto i comuni, vale a dire i municipi, in cui si decideva in comune, tra quelli che avevano diritto di voto e venivano eletti, in comune quali dovevano essere le decisioni da prendere per l'amministrazione della città. Pertanto si passava da un sistema feudale, dove c'era uno che comandava, a un sistema molto più moderno, che forse è esagerato definire democratico, democratico sicuramente non nel senso moderno, ma in qualche modo democratico sicuramente, considerando che democrazia vuol dire potere del popolo, e lì il popolo era costituito da coloro i quali erano maschi, avevano una certa età e potevano pagare le tasse, tutti gli altri erano eschiusi. In questo senso gli organi di governo comunali erano democratici, perché davano la parola a queste persone oppure ai loro rappresentanti. Detto ciò, però, queste realtà, queste assemblee comunali vengono viste con minore simpatia dalla popolazione. Perché? Perché la vita quotidiana era troppo rischiosa, e pertanto, essendo troppo rischiosa, si preferiva, se era il caso, dare più potere a una singola persona o una singola famiglia, anche a costo di cancellare completamente l'assemblea comunale e quindi di fatto di fare una piccola monarchia, che non si chiamava monarchia, ma che di fatto era il potere di uno oppure di pochi, di quei pochi che supportavano questo uno. Allora, di solito, che cosa succedeva? Di solito succedeva che c'era un signore che con l'appoggio delle famiglie più ricche prendeva il potere, e pertanto questo singolo signore con la sua famiglia che prendeva il potere appoggiato dalle altre famiglie, più ricche da altre, quantomeno famiglie più ricche, dava luogo a quella che si chiama oligarchia, va bene? Oligarchia viene da archia, che significa governo, oligos, che significa poco, quindi governo di pochi, dove c'era uno che era il capo di tutti e poi quelli attorno a lui che lo supportavano e lo finanziavano, ci mettevano anche gli sghei, i soldini, e questi qua praticamente di fatto governavano insieme al signore che aveva il potere principale. Chi era questo che veniva chiamato signore? Infatti si passa alle signorie. Molto spesso era il podestà. Vi ricordate il podestà? Chi era il podestà? Quando nei comuni la vita diventa troppo complessa e troppo difficile, che cosa si fa? Si chiamano figure professionali esterne al comune stesso, quindi che non fossero impelagate nelle situazioni che vedevano protagonista le famiglie più ricche di quel singolo comune, e gli si dava per un anno l'incarico di gestire il comune. Poi magari poteva essere rinnovato per un altro anno, di solito per un anno e via, massimo due. A un certo punto però qualcuno di questi podestà, si chiamano, di questi podestà chiamati per svolgere il loro servizio professionale in quel dato comune, che cosa fanno? Si vedono offrire da altre famiglie, fra le più ricche, la possibilità di rimanere a vita. Cioè a un certo punto si dice a questi podestà, fermi tutti, sapete che vi diciamo? Arrivano delle famiglie e dicono noi ti appoggiamo e tu rimani al potere per sempre, per tutta la tua vita. Al che il podestà giustamente diceva scusatemi ma se io sono stato incaricato per un anno, ho firmato un contratto per un anno, nel momento in cui io rimango, giustamente ci sarà una sollevazione, le altre famiglie si lamenteranno. E che problema c'è? Gli dicono queste famiglie. Tu stai con noi, noi ti supportiamo, ti forniamo eventualmente gli uomini armati per affrontare le difficoltà, l'importante è che tu stai al potere e che noi che ti appoggiamo e che finanziamo la tua difesa, la tua organizzazione, eccetera, ci tuteli nei nostri interessi e ci dai delle posizioni di prestigio all'interno del comune. Ed ecco così dunque che il podestà da podestà si trasforma in signora e trasformandosi in signora con queste famiglie che gli stanno intorno si forma una oligarchia signorile. Ricordatevi che oligarchia significa governo di pochi. Perché si chiama oligarchia signorile? Da un lato perché c'è il signore, il podestà che si trasforma in signore. Dall'altro lato perché ci sono poche famiglie che lo supportano e che, molto ricche, e che gli danno insomma e che insomma ricevono posizioni di prestigio e quindi comandano insieme al signore. Quindi oligarchia signorile. A volte però non erano i podestà, a volte erano altri ancora. Per esempio, poteva anche darsi che ci fosse la caduta, no la caduta, scusatemi, la decadenza della carica di un podestà, che un podestà quindi se ne dovesse andare e che il posto di podestà rimanesse vacante, rimanesse vuoto. A quel punto, magari in un dato comune, le varie famiglie più ricche potevano proporsi alla guida della città facendosi forti della loro ricchezza. va bene, quindi pagando magari le altre famiglie perché acconsentissero al fatto che questi prendessero il potere, potendo pagare degli eserciti di mercenari che stessero al loro soldo. Quindi, a volte erano quindi famiglie particolarmente ricche che assumevano questa posizione. Altre volte ancora, vi ho detto, no, che si potevano pagare i mercenari, cioè i soldati professionisti, professionisti, i quali venivano pagati per combattere e quindi erano persone che combattevano non per amor di patria ma per amor di denaro. E quindi, se io per esempio prendevo una compagnia di ventura, si chiamavano così, prendevo una compagnia di ventura, cioè una truppa militare privata, guidata di solito da un nobile di seconda categoria, e gli dicevo ok, io ti pago e tu combatti per me insieme alla tua truppa militare, alla tua compagnia. Magari arrivava un altro signore, magari arrivava un altro signore e pure se questa truppa, pure se questa compagnia era al mio soldo e io gli davo uno stipendio e combattevano per me, poi arrivava un altro signore, li pagava di più e questi mercenari, queste compagnie di ventura, passavano direttamente con l'altro signore e mi tradivano, era una cosa assolutamente comune, o magari venivano pagati da un comune, da un signore di un comune, eccetera, eccetera, si mettevano a servizio, poi magari il capitano di ventura, cioè il capo della truppa, questo nobile decaduto, di solito, di solito, nobile decaduto, nobile di seconda categoria, no, decaduto, un cadetto e così via, magari, ecco, diceva, ma guarda, questa famiglia è abbastanza debole, ma se a posto di starci lui mi ci metto io con i miei soldati, e magari prendevano il potere con la violenza, quindi c'erano vari modi, un modo era quello che il podestà si trasformava in signore su richiesta di qualche famiglia, un altro modo era che qualche famiglia prendeva, si prendeva la briga di dire, ma perché non devo guidare io il mio paese, il mio comune, la mia città, e i forti dei loro soldi, infatti, molto spesso erano banchieri, erano mercanti, come per esempio i medici a Firenze, altre volte, invece, erano capitani di ventura che prendevano il potere con la violenza, con la forza, con dei veri e propri, molto spesso, colpi di stato, ok? Bene, ma la cosa che è assolutamente interessante è che non è che la popolazione era scontenta, la popolazione era contenta che ci fosse uno che prendesse il potere, perché? Perché uno che prendeva il potere significava che imponeva la sua legge e a quel punto non ce n'era per nessuno, quell'uno che imponeva la sua legge aveva lui il comando, lo aveva a vita e nessuno gli si poteva contrapporre, quindi non c'erano più scontri tra fazioni, non c'erano, o c'erano molti di meno, non c'erano più atti di aggressione, non c'erano più vendette e inoltre, avendo un capo solo, che comandava, questo poteva organizzare meglio la difesa nei confronti di altri comuni avversari, di altri comuni rivali e quando avveniva che una città, magari in uno scontro con un'altra città, una città vinceva, il signore di questa città diventava signore anche dell'altra città, quindi magari si creavano città più importanti che estendevano il proprio dominio su altre città ed ecco che nascono quindi le signorie, va bene? Le signorie che piano piano si trasformano in principati, attenzione, il signore non è un nobile, non è un nobile, un signore, il signore molto spesso è un borghese, un ricco mercante, un ricco banchiere che diventa capo di un comune oppure un podestà che è un professionista ma non è un nobile, a volte sì c'erano dei nobili ma erano i capitani di Ventura, erano quelli più delinquenti di tutti. Diciamo, la maggior parte di questi signori non erano nobili, dire principe invece significa dire nobiltà, e allora com'è che dalle signorie piano piano si arriva ai principati, si arriva ai principati in questo modo, cioè questi signori intanto sono padroni di determinate situazioni, capi politici di determinati territori a vita, poco a poco succede che questi signori diventano sempre più potenti, scusate ho dovuto interrompere perché c'era troppa troppa confusione, allora dicevamo dire principe è una cosa diversa da dire signore, questi signori a piano piano che erano capi politici di determinati territori a vita, piano piano, piano piano, piano piano cosa fanno? Riescono in maniera ufficiosa a imporre che i loro eredi, cioè i loro figli, diventino dopo di loro capi, cioè signori di quelle determinate città o meglio di quei determinati territori che cominciano a diventare più larghi. All'inizio questa cosa avviene in maniera ufficiosa, a poco a poco diventa una cosa ufficiale, ufficiale, diventa cioè obbligo che alla morte di un signore gli succeda il figlio, ecco che la signoria diventa ereditaria, ecco che nei comuni le persone da sudditi erano diventate cittadini, ora con le signorie da cittadini ritornano sudditi, hanno sopra di loro un sovrano. Quando è che un signore diventa principe? Quando o dall'imperatore, sacro romano impero, o dal papa, o da quello che si vuole, si ottiene il riconoscimento del titolo di principe, del titolo nobiliare, e molto spesso questo titolo nobiliare non si otteneva per veri meriti, ma si otteneva con fior di pagamenti, con fior di soldini, che queste famiglie davano all'imperatore se c'era bisogno di pagare l'imperatore, al papa se c'era bisogno di pagare il papa, per ottenere un titolo nobiliare, e quindi diventare principi. E allora dai comuni si passa alle signorie, poi dalle signorie si passa ai principati. Però, se andiamo a prendere pagina, quant'era? 181 mi pare, andiamo a prendere pagina 181, e vediamo quanti puntini ci sono, immaginiamo che i comuni reali erano molti di più di questi che sono le più importanti, e poi guardiamo invece la cartina di pagina 336, ci rendiamo conto che comunque questi principati diventano, prima signorie e poi principati, diventano dei piccoli stati regionali, che semplificano il quadro geopolitico dell'Italia centro-settentrionale, invece di avere centinaia e centinaia e centinaia di piccole realtà statali legate ai comuni, ne hai una decina, poco più di una decina di stati regionali, ma li possiamo anche contare. Cominciamo dall'alto a sinistra, Marchesato di Saluzzo ed è 1, Ducato di Savoia ed è 2, Marchesato di Monferrato ed è 3, Asti, che è un territorio, adesso non mi ricordo che tipo di territorio era, sono 4, Ducato di Milano e sono 5, Principato di Trento e sono 6, Repubblica di Venezia e sono 7, Mantove e sono 8, Ferrara e sono 9, Genova e sono 10, Bologna 11, Malatesta 12, Montefeltro 13, Davarano 14, Signoria di Firenze 15, Lucca 16, Repubblica di Siena 17, come vedete 17 stati che non sono centinaia di comuni o che rimane un quadro estremamente composito ma non è più quel bailamme che invece erano i comuni. Ci siamo? Allora, a questo punto quindi la cartina di pagina 336 per noi diventa importantissima. Vediamo che c'è lo stato della chiesa che è quello giallo, lo stato della chiesa, poi vedete che ci sono dentro lo stato della chiesa uno, due, tre, quattro piccoli principati. Uno è quello di Camerino con la famiglia detta da Varano, uno è quello di Urbino con la famiglia dei Montefeltro, uno è quello di Rimini con la famiglia dei Malatesta, è famosissimo il tempio malatestiano di Rimini realizzato da un architetto che si chiamava Leon Battista Alberti e poi Bologna con la famiglia dei Ventivoglio, poi c'era la grande signoria di Firenze con i medici, poi c'era Ferrara con la famiglia degli Este, Mantua con la famiglia dei Gonzaga, Verona con la famiglia dei Della Scala, il Principato di Trento e il Ducato di Milano, prima con i Visconti, poi con gli Sforza, peraltro Sforza era un capitano di Ventura, Marchesato di Monferrato e Marchesato di Saruzzo, mentre il Ducato di Savoia era molto più antico e poi vediamo che ci sono delle Repubbliche, la Repubblica di Genova, la Repubblica di Lucca, la Repubblica di Siena, la Repubblica di Venezia. Allora, come possiamo vedere, mi piacerebbe trovare una cartina però che mi permettesse di farvi capire meglio, sì. Allora, facciamo in questo modo, ragazzi, prendete la pagina, cioè tenete di fronte pagina 336 336 e pagina 350 350. Allora, tenete conto che il nord dell'Italia di pagina 350 dovete considerarlo come quello di pagina 336, va bene? Vedete che a fronte di quel casino che vedete a pagina 336 con tutti quegli staterelli regionali italiani, però abbiamo un grande, lo vedete a pagina 350, un grande regno di Francia, un grande regno di Aragona, un grande regno di Castiglia, un grande regno di Inghilterra, un grande regno di Ungheria, un grande regno di Polonia, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi grandi regni avevano ovviamente eserciti più stabili, avevano un'organizzazione dello Stato più precisa, invece qui si veniva dai comuni e allora c'era l'esigenza in Italia di avere eserciti stabili, abbiamo visto che non esistevano, esistevano gli eserciti fatti da compagnie di ventura, cioè da mercenari che si vendevano a quelli che li pagavano meglio, organizzare lo Stato un poco come i grandi Stati monarchici della Francia, della Spagna, eccetera, dove c'erano funzionari pagati e comunque che avevano la funzione di andare a riscuotere le tasse, di avere governi che durassero rispetto a quello che era dei comuni, questo succede con le signorie e poi con i principati. E allora, abbiamo visto che si arriva quindi prima alle signorie e poi ai principati, benissimo, al principato dunque le signorie hanno il potere accentrato in una sola persona con l'appoggio delle famiglie più ricche e l'abolizione delle assemblee cittadine, i cittadini tornano a essere sudditi. Bene, ragazzi, in realtà vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, adesso possiamo approfittare del tempo che rimane per fare intanto per dirvi cosa dovete sottolineare. Allora, andate a pagina 344 344 e vedete il primo paragrafo anche nei comuni si avverte il bisogno di un governo forte e questo ovviamente sì, poi come si diventa signori, qui ovviamente sì, leggiamo un attimino insieme, non si trattone la maggior parte dei casi di un colpo di mano, cancellate colpo di mano e ci scrivete di sopra atto violento, cancellate colpo di mano e ci scrivete di sopra atto violento, poi sottolineate quello che vi dico allora leggiamo non si trattò nella maggior parte dei casi di un atto violento perché da questo momento in poi penna e sottolineare sottolineare fu la popolazione stessa ad affidarsi spontaneamente all'autorità di un singolo esponente politico continuiamo a sottolineare si poteva diventare signore grazie alla ricchezza della propria famiglia solitamente costruita con l'attività mercantile e bancaria oppure usando la forza e l'astuzia oppure ancora quindi scusatemi lo ripeto si poteva diventare signore grazie alla ricchezza della propria famiglia solitamente costruita con l'attività mercantile e bancaria saltate un rigo e sottolineate oppure usando la forza e l'astuzia saltate due righe e sottolineate oppure ancora prolungando la carica che già si ricopriva all'interno di comune del comune sopra dove dice oppure ancora prolungando la carica al lato a carica scrivete di podestà di podestà che era quello che veniva chiamata la figura professionale che dei comuni veniva chiamata eccetera eccetera ve l'abbiamo detto allora glossario dove c'è scritto l'igarchia studiare benissimo dovete saperla a memoria i compiti del signore sì la nascita dei principati e degli stati regionali allora saltate alla quarta riga e sottolineate con la penna rossa affinché la signoria diventasse ufficialmente trasmissibile agli eredi era necessario che il signore acquisisse dall'imperatore o dal papa saltate al rigo successivo un titolo quale marchese duca conte principe tale titolo rendeva possibile il passaggio dalla signoria al ducato al principato facendone un governo ereditario poi saltate di quattro righe andate alla frase al sud invece il regno di napoli passò dalla dinastia sveva al dominio degli angioini che in sicilia poi furono sostituite e la cancellate va bene al sud invece il regno di sicilia il regno di napoli passò dalla dinastia sveva al dominio degli angioini che in sicilia furono poi sostituite e la tagliate perché è impossibile che ve la ricordiate dove c'è il box grigio le compagnie di ventura ci mettete leggere va bene poi a questo punto io direi che potremmo anche fare questo che potremmo anche fare questo questo laboratorio e allora dovete fare ragazzi seguitemi bene segnatelo adesso pagina 346 tutto pagina 347 che cosa so numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 girando pagina niente per ora niente pagina 346 347 allora vi prendete 10 minuti esatti stoppate il video prendete 10 minuti esatti dopo questi 10 minuti vediamo le soluzioni quindi stoppate e poi vediamo ho detto stoppate e poi vediamo ok allora voglio sperare che abbiate realmente fatto gli esercizi servono a voi non servono a me giusto me può fregare di me giusto allora leggiamo e vediamo le soluzioni l'Italia delle signorie e l'Europa degli stati colloca le seguenti parole nel punto opportuno della mappa signoria Tudor stati regionali guerra dei cent'anni centrale ereditario Lancaster Asenku dunque cominciamo la parte di sinistra Francia e Inghilterra sotto guerra dei cent'anni per questioni economiche di territorio e di eredità giù prima fase vincono gli inglesi giù seconda fase vincono i francesi ma muore il re giù terza fase dopo la battaglia di Asenku Asenku scritto Azincourt Asenku il re d'Inghilterra diventa anche re di Francia giù ancora quarta fase Giovanna d'Arco guida i francesi che cacciano via gli inglesi giù ancora in Inghilterra scoppia la guerra civile fra Lancaster Lancaster scritto e York guerra delle due rose sotto ancora sale al trono la discendenza dei Tudor colonna di destra Italia i comuni hanno più potere e più territori giù c'è bisogno di un governo centrale che duri a lungo giù prendono il potere più ricchi e più forti giù nasce la signoria e il signore ottiene dal papo dall'imperatore il titolo di conte o duca giù il potere diventa ereditario giù ancora nascono i principati che diventano più grandi e più potenti e diventano stati regionali ok pagina 347 che cosa so uno per quali motivi scoppiò la guerra dei cent'anni ovviamente qua la risposta era più libera deve essere bene o male cioè deve avere come contenuti quello che vi dico io va bene come contenuti ok poi se le parole sono diverse non fa niente allora questa prima domanda si poteva rispondere in questo modo la guerra dei cent'anni scoppiò per questioni dinastiche ed economiche tra Francia ed Inghilterra 2 in quali frasi si può suddividere la guerra dei cent'anni prima fase seconda fase terza fase quarta fase prima fase prevalgono gli inglesi gli inglesi che vincono a Poitiers nel 1356 seconda fase prevalgono i francesi terza fase prevalgono gli inglesi che vincono ad Asangu scritto a Zincourt 1415 quarta fase prevalgono i francesi che liberano tutto il territorio tranne Calais scritto Calais 1453 poi se avete scritto diversamente ma le cose sono corrette va bene purtroppo non siamo in classe quindi non possiamo correggere 3 complete seguenti periodi scegliendo l'opzione che ritieni opportuna tra le due che ti vengono proposte a dopo aver combattuto e perso la guerra dei cent'anni l'Inghilterra si trovò coinvolta in un nuovo conflitto civile b furono coinvolti oppure coinvolte 1 2 fazioni nobiliari 3 c lo scontro prese il nome di 2 guerra delle due rose di alla fine 2 salì al trono la dinastia dei Tudo 6 come conseguenza 1 la nobiltà perse quasi del tutto il proprio potere 4 inserisci i termini opportuni tra quelli sotto elencati esercito tasse comuni signorie titolo potere politico principati stati regionali eredità in Italia intanto i comuni più grandi allargano ancora le loro proprietà si comincia ad aver bisogno di un esercito fisso di funzionari che facciano pagare le tasse e di un governo che sia forte e duri a lungo in questa situazione nascono le signorie con a capo un signore diventato tale o per la ricchezza o con la forza e l'inganno o per l'importanza che aveva nel vecchio comune che concentra su di sé il potere politico ben presto il signore inizia a chiedere all'imperatore o al papa di essere riconosciuto ufficialmente e di avere un titolo come marchese duca conte principe ed ecco che le signorie si trasformano in principati e il potere viene trasmesso di padre in figlio come eredità i principati più grandi aumentano le loro terre e diventano stati regionali adesso girate pagina e vediamo pagina 348 349 di tutto ciò dovete fare di pagina 348 tutto di pagina 349 di come ragiono la 1 no la 2 no la 3 no la 4 sì per quali motivi comuni si trasformano in signorie e poi in principati poi le parole della storia 1 e 2 sì allora vi fate 10 minuti questi esercizi fra 10 minuti riaccendete e correggiamo prima però leggiamo il lavoro sui documenti allora ti proponiamo adesso un brano che descrive il processo subito da Giovanna d'Arco dopo aver letto attentamente il testo rispondi alle domande ponendo una crocetta sull'opzione corretta una sola per domanda allora leggiamo seguite il testo piacque alla divina provvidenza che una donna Giovanna comunemente chiamata la pruzella fosse presa e imprigionata da soldati onorati entro i confini della nostra diocesi e giurisdizione già in molti luoghi si era diffusa la voce che questa donna dimentica cioè che non ricorda della dignità che al suo sesso si addice era femmina e quindi si doveva stare a casa e non rompere le balle il concetto era questo incurante di ogni vere condia cioè vergogna come di ogni femminile pudore vestisse per una singolare mostrata aberrazione cioè deviazione vergognosa dalla norma cioè cosa che non andava bene indossasse vestiti insoliti adatti solo agli uomini e dicevasi che la sua presunzione giungesse al punto di osar sostenere affermazioni contrarie a parecchi articoli della fede cattolica tali misfatti era noto averli ella commessi non solo entro i confini della diocesi nostra bensì in altri luoghi del regno per suddetti per i suddetti motivi noi ti dichiariamo di nuovo passibile della scomunica cioè condannabile alla scomunica in cui eri in corsa ricaduta nei tuoi errori ed eretica li abbiamo studiati gli eretici con questa sentenza noi che sediamo in tribuniale dichiariamo che tu devi essere respinta dall'unità della chiesa come membro cancrenoso cioè che va in putrefazione rescissa cioè staccata dal suo corpo ed abbandonata al braccio secolare cioè all'esercito che ti può mettere a morte lo so che è difficile il senso generale fra dieci minuti riaccendete e correggiava bene allora 1 in che modo secondo l'autore era vestita Giovanna c con abiti maschili 2 la fanciulla è inoltre descritta come b presuntuosa 3 chi è l'autore del passo ovviamente è un giudice d 4 rescissa dal suo corpo ultima riga questa frase con quale altra può essere sostituita separata dalla chiesa b 5 a chi viene affidata Giovanna a a un tribunale dello stato pagina 349 vi ho detto 1 2 3 no la 3 per quali motivi comuni si trasformano in signorie e poi in principati ritornate alla lezione e ve la seguite si trasformano in signorie perché per l'esigenza di sicurezza delle persone o per la loro forza o per perché appartengono a famiglie ricche o perché gli viene proposto diventano signori di una città poi ottenendo un titolo nobiliare o dal papo o dall'imperatore diventano principi le parole della storia indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vero o false a per cultura si intende sempre la quantità di informazioni che una persona conosce falsissimo b trovate la risposta a pagina 338 nel glossario b la guerra civile viene combattuta fra due stati confinanti falso la guerra civile viene combattuta all'interno di uno stato tra gli stessi cittadini 2 riscrivi l'eventuale definizione corretta per esempio per l'a potevate mettere per cultura poi se non è preciso non fa niente l'importante è che i contenuti siano quelli per cultura si intende anche il complesso di scoperte e conquiste che un determinato gruppo ha raggiunto nel tempo e che è diventato patrimonio tradizionale b la guerra civile viene combattuta all'interno di uno stato questo laboratorio non è un gran caso non è d'accordo con voi bene ragazzi ci vediamo adesso per storia la prossima settimana ciao